Siamo a Roma nella bellissima sede del Ministero della Salute dove si svolge il terzo incontro nazionale sulla ricerca indipendente. Qui il professor Garattini ha tenuto una bellissima relazione dove ha spiegato quelli che a suo avviso sono i quattro cardini su cui si deve basare proprio la ricerca indipendente. Ce li facciamo raccontare da lui per capirli meglio. Allora professore lei qui nella sua relazione ha toccato tanti temi e in particolare ha spiegato quelli che a suo avviso sono i quattro pilastri su cui si deve basare la ricerca clinica sia quella indipendente ma penso anche l'altra ma soprattutto quella indipendente. Io vorrei che ci commentasse uno per uno questi pilastri. Il primo che lei ha menzionato è quello dell'evidenza. Cosa significa evidenza? Evidenza significa che dobbiamo far sì che tutti i trattamenti che utilizziamo sia di tipo farmacologico o non farmacologico siano basati su studi clinici controllati con caratteristiche adeguate perché gli studi clinici controllati siano eseguiti per studiare la superiorità dei nuovi trattamenti verso quelli che già esistono perché questo è quello che interessa ai pazienti e di conseguenza al servizio sanitario nazionale. Lei diceva anche che si utilizza troppo il placebo, che si utilizzano comparato non sempre diciamo all'altezza? Certamente l'abuso del placebo, l'utilizzo dei comparatori di comodo, i disegni di non inferiorità, l'uso di end point, di parametri surrogati per valutare l'efficacia dei farmaci anziché l'impiego dei parametri terapeutici, il fatto che molto spesso non si pubblicano i lavori che sono negativi eccetera. C'è tutta una serie di caratteristiche che lo studio clinico controllato deve avere per poter veramente rispondere alle esigenze degli ammalati. Ecco, secondo pilastro è quello dell'etica. Cosa intendeva professore? Per etica intendo che l'Accademia non deve accettare protocolli che siano preparati da altri ma deve essere partecipe nella preparazione dei protocolli, deve registrare i protocolli perché possono essere seguiti nel tempo, deve far sì che la proprietà dei dati appartenga all'Accademia fino a quando i dati non sono pubblicati e poi vengono messi evidentemente a disposizione di tutti. I dati devono essere pubblicati sia che siano negativi sia che siano positivi e questi sono punti molto importanti che prescindono dal fatto di chi finanzia lo studio. Sono i principi che valgono per assicurare l'indipendenza a livello etico. Terzo pilastro è quello dell'appropriatezza. Questo è un campo molto importante perché dipende molto dall'Accademia, dalle società mediche di far sì che i farmaci vengano utilizzati in modo appropriato e non secondo quanto impone molto spesso la propaganda farmaceutica. Si tratta di fare in modo che le linee guida siano effettivamente preparate nell'interesse dei pazienti, che non vi siano troppi farmaci che hanno tutte le stesse caratteristiche, che i farmaci vengano utilizzati quando nel caso in cui siano disponibili sotto forma di farmaci dal nome generico, vengono privilegiati in qualche modo perché sono quelli che a parità di condizioni hanno il vantaggio di un costo minore. Noi abbiamo interesse che il Servizio Sanitario Nazionale utilizzi i farmaci in modo appropriato perché questo è il modo più significativo per attuare risparmi senza toccare la salute della gente. Ultimo punto, la legislazione. Questo è un punto a cui molto spesso l'Accademia non pensa, ma quello che fanno gli enti regolatori dipende molto dalla legislazione, quindi ci vuole molto più pressione su coloro che legiferano. Ho indicato alcuni elementi che vanno cambiati, come per esempio l'accessibilità dei dati su cui si fonda un'autorizzazione di un farmaco. Oggi questi dati sono secretati, quindi non sono disponibili. Ho indicato il fatto che dobbiamo cercare di avere farmaci che siano più attivi di quelli che già esistono e quindi bisogna che nella legislazione compaia il termine non soltanto di qualità, efficacia e sicurezza, ma anche di valore terapeutico aggiunto. E poi bisogna che gli studi che determinano l'autorizzazione di un nuovo farmaco non siano eseguiti soltanto dall'industria, ma siano corroborati da studi clinici fatti da enti indipendenti. Se lei diceva che degli studi clinici di fase 3 che servono per il dossier registrativo ce ne vorrebbe almeno uno indipendente. Esatto, è quello di cui abbiamo bisogno per rendere anche più facile il lavoro dell'autorità regolatoria. Un commento finale, professore. Le aziende farmaceutiche hanno un cronometro inesorabile che è quello della scadenza del brevetto, che porta la vita commerciale dei farmaci dai vent'anni teorici, li porta a 10-12 anni. Questa corsa che ha ovviamente delle motivazioni economiche, come può essere compatibile con le necessità del sistema pubblico, che è quello che lei ovviamente sostiene? È il sistema pubblico che compra i farmaci, quindi è chi compra che dovrebbe in linea generale decidere le condizioni. Non deve accadere l'opposto, perché è quello che succede in realtà. La buona madre di famiglia che decide che cosa comprare secondo le risorse disponibili. Non sono i venditori che impongono che cosa deve comprare la buona madre di famiglia. Quindi penso che i problemi siano per loro natura molto chiari, dobbiamo evitare di renderli confusi. Grazie a tutti.